tuo nome, di certo saremo benedetti per la gloria sua. Bene, vogliamo ritornare alla nostra serie che stiamo facendo come pregare nella volontà di Dio. Noi sappiamo che non dobbiamo chiedere al Signore qual è la sua volontà perché il Signor Gesù ce l'ha già rivelata. Quando gli apostoli chiesero al Signore insegnaci a pregare che Luca ci riporta oppure quando in San Matteo che la Bibbia ci riporta che il Signore ci diede questo modello di preghiera e come ho detto domenica scorsa, ripeto stamattina, questa non è la preghiera di Gesù come alcuni dicono la preghiera del Signore. È la preghiera che il Signore ha insegnato a noi di pregare perché il soggetto che stamattina tocchiamo, qui ci sappiamo molto chiaro che questa non è la preghiera di Gesù perché dice perdona i nostri debiti. Un'altra tradizione dice i nostri peccati come noi perdoniamo ai nostri debitori. Gesù non ha bisogno di chiedere perdono perché è stato concepito dallo Spirito Santo, egli è senza peccato, ha preso i peccati su di sé per pagare il prezzo di redenzione affinché stamattina troviamo favore agli occhi di Dio. Bene, vogliamo tornare, abbiamo lasciato domenica in Giovanni capitolo 6 verso 27 e poi Matteo capitolo 6, il versetto 9 a 14 e siamo alla quinta domanda o alla quinta frase del Padre nostro che stamattina vogliamo considerare. Abbiamo lasciato domenica scorsa che dacci oggi il nostro pane quotidiano. Amen. Così alziamoci in piedi, onoriamo la parola di Dio. Capitolo 6 di Giovanni verso 27 dice Adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna che il figlio dell'uomo vi darà perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Capitolo 6 di San Matteo, il versetto 9 a 14. Voi dunque pregate in questa maniera, questa frase così meravigliosa, così profonda che non è che se vi fa comodo, se avete problemi, la preghiera è una cosa giornaliera che noi dobbiamo invocare il nome del Signore. Voi pregate in questa maniera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Fin qui abbiamo già meditato, approfondito, allargato questi soggetti. Stamattina e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione. Voglio dirvi che non saremo esposti alla tentazione quando noi chiediamo al Signore di perdonarci ogni giorno perché il nemico dove ci porta a dubitare quanto egli ci tenda con le nostre debolezze, i peccati. Ma liberaci dal maligno perché tuo il regno è la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Voglia il Dio benedire la Sua parola nei nostri cuori. Accomodatevi. La quinta domanda che il Signore o la quinta linea che il Signore ci ha dato qui è ben rimettici i nostri debiti. Luca ce la presenta diverso, dice 11 verso 4, dice perdona i nostri peccati e poi c'è perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Questa domanda io credo che è la più urgente dei nostri bisogni, cioè il perdono dei peccati è basato come noi perdoniamo. E al di là delle necessità della nostra vita, le necessità sono importanti, però a mantenere la nostra vita, il nostro vaso, la nostra coscienza pura, gli occhi di Dio, è ancora più importante delle cose fisiche. Perciò Luca ci dice, ci mette questo perché, perdona i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Il modello di preghiera perfettamente adattato ai nostri bisogni e alle nostre capacità prendiamo informazioni che noi siamo obbligati ad andare alle nostre devozioni con il desiderio, primieramente, di perdonare per essere perdonati. Ora ho detto varie volte tutti abbiamo difficoltà in questo perché c'è la nostra personalità. Abbiamo meditato venerdì sera nello studio biblico il vice pastore portò davanti quanto negli ultimi capitoli del libro dei giudici quanto Israele si trovavano senza rei, spiritualmente morti e man facevano ognuno faceva quello che gli pareva di fare, che era buono e alla fine è diventato una guerra civile in mezzo a loro per la ragione della cui personalità. I beniamini erano quelli che non volevano arrendere quelle persone che avevano commesso il misfatto e per quella ragione ci fu una guerra civile, una guerra tramite il popolo di Israele ed io credo che la nostra personalità, alcuni di noi abbiamo una personalità forse più fenomena dell'altri, ci porta a volte a non considerare certe cose che noi ci mettiamo o ci pensiamo che siamo ma poi non lo siamo perché qui vediamo chiaro nella preghiera, nel modello di preghiera che l'ordinamento giudiziario che Dio ha stabilito e non lo possiamo cambiare, non importa tutte le teorie, le teologie, l'omiletica, tutte queste cose sono buone ma dobbiamo ricordarci che Dio ha stabilito un modello e quel che seminate raccogliete, quella legge non la possiamo assolutamente cambiarla ed è la verità, mia mamma mi diceva sempre a me di non seminare spine perché se no non potevamo camminare senza scarpe, sapete da quei tempi si risparmiavano le scarpe nell'estate e meno si andava scalzi risparmiavano le scarpe quando il tempo era freddo perché così le scarpe stavano buone e i piedi si facevano così duri che o l'avevi le scarpe o non l'avevi, guardiamo queste persone nel terzo mondo o ce l'hanno o non ce l'hanno, i piedi sono duri, possono camminare, così noi era quei tempi, erano tempi difficili, un paio di scarpe dovevano durare almeno un anno e mia mamma mi diceva sempre non seminate spine se no non potete andare senza scarpe ed è verità perché quello che seminiamo a suo tempo lo raccogliamo e prima che noi portiamo la nostra offerta, Gesù anche ci ha parlato di questo nel sermone profetico, la nostra offerta all'altare, ora dobbiamo ricordarci che Gesù parlava allora secondo la regola del vecchio testamento e secondo la regola del giudaesimo e ora quando egli presentò e disse Matteo capitolo 5 23 se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, se tuo fratello non che tu ce l'hai ma a volte malintesi succedono e qualcuno può avere dei rancori forse a volte una parola non pensata forse un pensiero che a volte presumiamo e queste sono tutte cause a volte che il nemico ci mette la sua codella in mezzo, quello non ce n'ha la coda, non perché l'hanno descritto con le corne, con la coda perché il diavolo era l'arcangelo della lode, era un arcangelo che quando si muoveva nel cielo aveva l'attenzione ma perché è divenuto lucifero diciamo tante cose che c'ha le corne, c'ha la coda eccetera eccetera però Paolo dice che è anche l'angelo di luce, ci dice anche che è come il leone ruggente, ci dice anche che è come serpente, ci dice anche che è il dracone, comunque Satana è descritto di tante cose ma dove Satana può arrivare? Dove Satana può arrivare? Non può arrivare al cuore perché il cuore è pieno dello Spirito Santo, protetto dal sangue di Cristo, circondato dalla grazia di Dio, però Satana può arrivare sempre ai nostri pensieri. Ora non ho guardato la statistica ma i nostri pensieri volano così velocemente, sono sempre in movimento, infatti anche quando dormiamo alcuni hanno, si ognano tante cose e qualcuno ha detto, dice è meglio se non sognate perché quando qualcuno sogna qualcuno, per esempio se qualcuno sogna di me vuol dire che io lo sto disturbando e allora è meglio che dico quando vado a letto voglio dormire in pace, perciò il sognare a volte anche quello è pericoloso che Satana viene neanche nei sogni, ci fa sognare dei sogni che non sono buoni, perciò dobbiamo alla sera metterci a letto, riposarci, quando la coscienza, io credo questo, è pulita, quando la coscienza è lavato col sangue di Cristo, quando la nostra vita è un vaso adorno dallo Spirito Santo, non c'è posto per il diavolo. Così Gesù infatti qui in quattro versetti, vogliamo focalizzare a questo stamattina perché è una legge che il Signore ha stabilito, in quattro versetti, Matteo 5 il versetto 23 a 26, contengono un'applicazione pratica degli insegnamenti di Gesù relativi al sesto comandamento, applicazione che l'uso della seconda persona singolare rende più cara e più diretta, cioè ogni volta che noi preghiamo, se noi preghiamo in pace al Padre nostro, vuol dire che prima di aprire la preghiera abbiamo portato il nostro olocausto di lode al Signore e nel nostro sacrificio di lode e perciò dobbiamo stare attenti che il Signore dice prima che voi fate questo, esaminate voi stessi. Immagina se la legge condanna i sentimenti, se noi ci sentiamo condannati dai nostri sentimenti, che qualcosa non funziona bene nella nostra vita, le parole in apparenza anche insignificante che a volte possono essere, è chiaro che i disaccordi, le discordie, quando anche i farisei non consideravano queste cose che era un granché di essere in conflitto tra di loro come poco importanza, saranno più severamente condannati e specialmente l'egoismo che ci priva della riconciliazione, la personalità. Perciò il Signore leggendo i cuori dei farisei di quell'era, leggendo i cuori del popolo che lo circondavano, il Signore ci ha dato a noi e allora a loro un insegnamento, il Signore dimostra, lo vogliamo leggere insieme, Matteo 5, 23 e 24, se dunque tu stai per presentare la tua offerta all'altare, com'è la tua altare stamattina? Non abbiamo un altare di terra e neanche di pietra, ma abbiamo un altare spirituale nella nostra vita e ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Ricordiamoci che gli atti religiosi di quelli che rifiutano di riconciliarsi, che a volte, e ne ho visto nella mia vita di tante di queste cose, con i loro nemici, che a volte i nemici ci rifacciamo, ho detto a martedì scorso nel culto di preghiera, che a volte una dottrina, che dovrebbe essere la dottrina che la dobbiamo rispettarla perché è importante, ma a volte quella dottrina la possiamo così allargarla che ci facciamo nemici tra di noi. Per esempio, quando Maometto voleva, ha studiato il giudaesimo e non è stato confinto e quando egli portò davanti a sé tre grandi uomini a quell'era, chiamati biscep, e li portò davanti a sé, che sarebbero dovuto presentarci il cristianesimo, si missero a litigare tra di loro sulla dottrina della Trinità. Erano tre di loro, c'era uno di loro, non credeva nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. E perché questa lite, Maometto pensò di stabilire la sua religione. E qualcosa in quel punto, la Chiesa o quelli che rappresentavano, perché è meglio che ritengo la parola Chiesa, perché la Chiesa non fallisce mai, la Chiesa che Gesù ha detto io costruirò la mia Chiesa, però quelli che rappresentavano la Chiesa non hanno rappresentato la Chiesa come doveva essere presentata. Oggi questa responsabilità cade su di noi e questa responsabilità che cade su di noi. Noi rappresentiamo la Chiesa di Gesù Cristo e se non la rappresentiamo come dovrebbe essere rappresentata, noi falliamo, la Chiesa non fallisce. La Chiesa di Gesù Cristo sarà sempre costruita, perché Gesù ha promesso io costruirò la mia Chiesa, le forze, le potenze dell'inferno non prevaleranno. Però guai a noi che un giorno staremo davanti a Dio e dobbiamo rendere conto di quello che noi abbiamo fallito al momento che non dovevamo fallire. Perciò questo è importante, agli occhi dei nostri nemici che dobbiamo ricordarci che noi siamo quelli che rappresentiamo l'amore di Dio. Gesù sulla croce aveva tutto il diritto, o quanto disse a Pietro, quando Pietro tira la spada e taglia l'orecchio al servo del sacerdote, Gesù disse io ho il diritto, avrei potuto chiamare legioni di angeli e mi avrebbero protetto. Ma Gesù invece sulla croce non disse parole di vendetta, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E molte volte questo succede anche a noi, parole escano che non li pensiamo, azioni succedono perché non abbiamo messo mente. So, perciò dobbiamo stare cauteli, fratelli e sorelle, perché tutti i sacrifici, ogni volta che noi offriamo al Signore la nostra preghiera alla mattina, alla sera, al giorno, sono sacrifici che noi offriamo al Signore per noi stessi come Israele li offriva per loro stessi. Tanto gli sacrifici di espiazione o i sacrifici ecauristici dovevano essergli presentati a Dio, questo era l'ordine, sull'altare del Tempio di Gerusalemme. Non si potevano offrire ad altri posti. Potete immaginare quando si partivano la gente così lontana, dovevano andare in Gerusalemme per andare a portare il loro sacrificio per i loro peccati o il loro sacrificio per trovare la riconciliazione con Dio. Perciò Dio ha stabilito le cose e non le possiamo cambiare. Beati noi se le accettiamo e le ubbidiamo. So, tutte le altre usanze religiose erano inabominevole agli occhi di Dio, di colui che aveva ordinato queste regole. Fuori di questo era chiaro un atto di disubbidienza. Il fratello ha detto stamattina che il Signore ci permette, ed è vero, le cadute sono per noi. Dobbiamo a volte fallire per comprendere e per fare meglio. E Dio ci permette questo. Dio è il Dio della seconda, della terza, la quarta opportunità. Però se noi falliamo sempre sulla stessa cosa vuol dire che non abbiamo imparato mai niente. Ciò vuol dire che se io fallisco di una cosa che mi ha sorpreso o che perché non comprendevo, ma dopo l'ho compresa e mi sono riconciliato, il Signore mi perdona, però non devo fare lo stesso fallimento. Perché sennò poi diventa iniquità. Iniquità vuol dire che noi sappiamo che questo non è giusto e sfidiamo Dio, lo facciamo ugualmente. Perciò Gesù Cristo ha dato questa bellissima istruzione, Gesù Cristo ha dato l'intenzione agli apostoli, stamattina a noi di indicare che gli atti religiosi non ci aiutano. L'atto religioso possiamo, Paolo disse, posso dare la mia vita per essere bruciata, ma se non ho carità, non ho amore. Tutto quello che ho fatto non vale niente. Sono gli atti religiosi, la religione è buona a volte perché la religione mette ordine. Per esempio io incoraggio i giovani a frequentare lo sport. Frequentare lo sport è una cosa che la vita viene disciplinata, però oggi dico anche a loro di stare attenti nello sport. Per esempio quando io facevo la lotta in Svizzera era una buona cosa perché ti disciplina, lo sport disciplina, deve avere il riposo, deve avere questo, deve mangiare i cibi che devi mangiare eccetera eccetera. Però anche in quello mi fu introdotto anche la droga, mi fu introdotto i steroid per poter costruirci meglio, ma io non li ho accettati perché ho capito che questa non era una cosa buona. Dobbiamo essere naturali, fratelli, non possiamo usare delle cose che vogliamo formarci con delle cose sofisticate. L'essere naturali è una cosa meravigliosa agli occhi di Dio e perciò l'ubbidienza è meravigliosa, l'ubbidienza assoluta a Dio, al nostro Padre Celeste. Perciò il culto che noi offriamo a Dio per dimostrare l'importanza. Perché siamo qui stamattina? Perché dimostriamo l'importanza nella nostra vita la necessità di essere nella casa del Signore. Dobbiamo ubbidire, il Signore ha stabilito di non essere divisi quanto è bello e caro quanto i fratelli dimorono insieme, non trascurate la comunione, non trascurate il venire insieme, specialmente che i giorni si fanno sempre più duri. E perciò questa, stamattina siamo qui perché sentiamo la necessità, l'importanza, ma anche sentiamo la necessità e l'importanza ogni volta che preghiamo della riconciliazione. Riconciliati con Dio, riconciliati tra di noi. Dobbiamo pensare che se questo non viene praticato, noi dichiariamo disubbidienza agli occhi di Dio e siamo lì per rendere il nostro culto, ma il culto non viene accettato da Dio perché Dio ha stabilito questo. Non solo dacci oggi il nostro pane quotidiano, per cui ho detto poco fa, è importante questo, le necessità della vita. Però, quando più è importante, perdona i nostri peccati. Perché? Dice Luca. Perché anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Gesù, anche se è l'era della grazia, ed è vero, oggi è l'era della grazia. Vi ricordate alcune settimane fa quando vi dissi che sotto la legge, se il tuo figlio, un figlio era disubbidiente, doveva essere portato all'attenzione di quelli che dirigevano il paese. Il fatto era che quelli che dirigevano i giudici di quell'era erano sensibili alla giustizia. Vediamo oggi, vediamo questo uomo in Massachusetts che è stato stabilito alla pena di morte. Stanno già pensando come fare l'appello di portare questo alla Corte Suprema per i diritti umani, perché ci sono dei diritti umani. Eba i diritti di quelli che sono stati ammazzati, i diritti di quel bambino che ha perso una gamba, i diritti di quelli che hanno avuto un tramo. Nessuno pensa a quelli lì perché quelli non parlano. Però i diritti di quello che è ancora vivo. Ecco, questa è ingiustizia. La legge è stabilita, ma è come noi la avviciniamo, come noi la interpretiamo. Ma non è così la legge di Dio, fratelli. La legge di Dio non è da poterla interpretare secondo i nostri sentimenti. È l'era di grazia, è vero. L'era di misericordia è vero e non possiamo dire che no. Siamo dopo del Calvario, non prima del Calvario. Ma questo non ci dà a noi la licenzia, non ci permette a noi di poter avere il dispetto o l'infidia verso alcun uomo. Ma avendo un cuore sottomesso alla volontà di Dio è quello che noi dobbiamo cercare di arrivare a questo traguardo. Luca perciò, capitolo 11,4, perdona i nostri peccati. Matteo non lo riporta questo, non mette questa perché. C'è una ragione. Tu ci devi perdonare, Signore, perché noi perdoniamo ai nostri debitori. Ebbene, su base a questo perdono, chiaro, una volontà malata avvelena, intossica la mente. Non solo indossica la mente nostra, ma a volte indossica anche la mente degli altri. Come noi desideriamo, preghiamo come noi speriamo, preghiamo come Dio dovrebbe avere verso di noi. Egli è obbligato di condiscendere. Questo è l'Evangelo che oggi viene predicato. Dio è obbligato a condiscendere ai nostri desideri. Non è così l'Evangelo. Siamo noi obbligati a ubbidire ai desideri di Dio. Dio ci perdona, ed è vero, Egli è buono e benigno, lento all'ira di grande benignità. Dio ci perdona, però dobbiamo anche ricordarci solamente su questi termini. Veramente il perdono di promessa deve essere preso in considerazione e serio da ognuno di noi. Implica anche un beneplacido da parte nostra. A volte dico, quando noi diciamo qualcosa che non è verità, per esempio, poi dobbiamo pensare, mi ricordo, e porto questo è un giochetto che nella mia vita ho imparato tante cose. Guidavo l'autobus allora, ero nella stazione di Meridin, e dissi qualche cosa, il treno era in ritardo, io rientrai dentro, conoscevo bene quello che faceva i biglietti, e ci disse, Daniele, hai sentito che è successo al treno? E quello certamente mi risponde, dice, che è successo? E io subito subito ci disse, ha avuto una bucatura alla ruota e ora stanno aspettando la AAA perché non hanno la ruota di scorta. E me ne sono uscito fuori, salto nell'autobus e me ne vado. La mattina dopo, entro nella stazione, questo Daniele mi ferma e dice, aspetta, era un gigante, un uomo grande, viene là, mi mette le mani al collo e mi ha detto, se fai quello che hai fatto ieri un'altra volta ti sdrancola. Ma voi pensate, che ho fatto ieri? Ma pensate che mi veniva in mente, che ho fatto ieri? E io poi ci ho fatto calmare, ci ho detto, ma dimmi un po', ma che ho fatto io. E quando lui mi ha ripetuto quello, io mi sono messo a ridere, dice, tu ridi, tu lo sai che 12 persone volevano i soldi indietro perché il treno era fatto la bucatura alla ruota e arrivava con tanto di ritardo. Hanno capito tutto quello? Quando noi diciamo le cose, se non è la verità, dobbiamo veramente pensarci tante volte che abbiamo detto. E perciò è così bello quando noi pratichiamo, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo ai nostri debitori, quando noi pratichiamo la sottomissione, quando noi pratichiamo, pratichiamo, cioè correggo la giustizia, quando noi pratichiamo la verità. Perciò Gesù disse, la verità vi francherà, non le bugie, la verità e questa sottomissione è condizionata, ma è anche ragionevole all'ubbidienza. Cariola Isaac, un buon scrittore, se vi trovate, trovate il suo commentario, è meraviglioso anche, commenta, dice su queste parole, dice se noi rompiamo, se noi tratteniamo alcune inclinazioni non caritatevoli, noi tratteniamo falsamente, noi trattiamo falsamente con Dio, noi perdiamo ogni funzione alla misericordia e il suo favore. Dio è misericordioso e perché no, Dio vuole anche trovare che noi troviamo favore agli occhi di Dio. Noi, se siamo, continuo a Cariola Isaac, se noi siamo qualificati per la misericordia e l'otterremo da Dio e per la grazia di Dio. Questo è l'aspetto, fratelli e sorelle, stamattina del Padre nostro. È un aspetto importantissimo che noi siamo in debito con Dio e siamo in debito anche con il prossimo. Un debito verso Dio di una offesa alla sua sovranità come un debito verso il prossimo che non abbiamo rispettato una creatura. A volte pensiamo, certe persone non ci piacciono, certe cose non ci piacciono, condizioni che succedono. Troviamo di fronte a delle persone che è veramente impossibile avere a che fare, eppure dobbiamo ricordarci che quella persona è una creatura di Dio. E io e te abbiamo una responsabilità di presentarci l'amore di Dio. perciò siamo peccatori salvati per grazia, ma questo non dovrebbe essere la scusa ogni volta, perché stamattina non siamo peccatori soltanto salvati per grazia, ma siamo santi ed eletti.